Un ringraziamento al vincitore della scorsa edizione ma i veri protagonisti sono i painter che pensate per oltre sette ore hanno dipinto i corpi di pazienti modelle e modelle che hanno trasformato il loro corpo in una vera e propria opera d'arte. Tutte le creazioni di questi artisti le vedremo in onda nella puntata finale che verrà trasmessa proprio da questa rete ma andiamo a sentire ora la voce dei veri protagonisti. Giorgia Artoni arriva da Reggio Emilia e stiamo vedendo una creazione che sembra egiziana vuoi spiegarci cosa stai facendo? È un'imperatrice egiziana e poi verrà finita e abbellita con una maschera dorata per riprendere appunto il tema delle maschere, maschera sarcofago insomma. Grazie e buon lavoro. Grazie a tutti.